La pasta di Camerino La famiglia Maccari inaugura un nuovo stabilimento in laboratorio in località Torre del Parco nel cuore di Camerino. Una giornata importantissima, abbiamo realizzato questo nuovo stabilimento nonostante le difficoltà del periodo economico che tutti stiamo attraversando e quindi un progetto davvero per noi importante che volge con fiducia e ci proietta a guardare il futuro con tanta speranza ma anche con la concretezza di ciò di cui siamo capaci di fare ovvero pasta di altissima qualità che i consumatori stanno apprezzando in tutto il mondo. Quindi nonostante le difficoltà noi ci crediamo e abbiamo investito qua di nuovo a Camerino anche dopo il sisma, dopo tutto quello che è successo un'altra volta per creare occupazione e nuovi prodotti che piaceranno sicuramente al nostro pubblico. La pasta di Camerino si riconosce per una qualità superiore del prodotto che parte dall'accurata selezione degli ingredienti di origine italiana al metodo di lavorazione unico figlio della tradizione. Triplo impasto lento, trafilatura al bronzo e siccazione lentissima a basse temperature. Oggi finalmente 15 luglio qui a Camerino lanciamo la pasta fresca ripiena quindi tutto il mondo dei tortellini, cappelletti, ravioli, tortelloni e la pasta lunga non ripiena, tagliatelle, lasagne. È un grande inizio, aggrediamo un nuovo mercato molto interessante e sarà pieno di novità sia di packaging che di prodotto. La pasta di Camerino, principale marchio di Entroterra S.P.A. nata nel 2009, nel corso degli anni è cresciuta sempre di più, tanto che oggi il gruppo si attesta sul mercato nazionale e internazionale. Conta 75 dipendenti, di cui il 60% sono donne e una produzione di 500 quintali di pasta al giorno. È una testimonianza di come da questo territorio, nonostante le difficoltà infrastrutturali, il sisma e tutto quello che stiamo attraversando anche in termini di costi di materie prime, rincari energetici, si possano fare sfide che ci rendono produttivi, che possano portare occupazioni e che puntando sulla tradizione, sulla qualità, anche da questi territori si può tenere alto il nome delle marche e la competitività e l'occupazione. Una giornata ricca di emozioni che ha segnato un importante passo avanti per una delle realtà imprenditoriali più solide del territorio. Quando ero bambino, che eravamo in campagna con mia mamma, quando si mangiava la pasta era solo pasta all'uovo, perché non c'era altro. Se troviamo l'uovo nel pollaio, un po' di farina, mamma si metteva subito a fare le tagliatelle e quel giorno era una festa. Era bello vedere la mamma che faceva la sfoglia, che faceva le tagliatelle, il taglio. E' rimasto sempre impresso nella mia persona e dopo, nella mia crescita, sono riuscito a avere dell'opportunità di imparare bene un po' il mestiere e ho cercato di riportare quello che faceva mia mamma sul tavolo dei consumatori. Grazie a tutti.